Un 2009, uno degli ultimi prodotti della fucina fabrianese, ora guidata da Claudia Mancinelli. Un 2009, uno degli ultimi prodotti della fucina. Un 2009, uno degli ultimi prodotti della fucina. Un 2009, uno degli ultimi prodotti della fucina. E' davvero bellissima questa atleta, molto promettente David, davvero completa la definirei perché ha tutte le caratteristiche necessarie per questa disciplina. Qui vediamo anche la parte espressiva di portamento, comunque ricordiamoci che è molto giovane, ma già ha una bella presenza in pedana. Questa combinazione di elementi è anche molto difficile, qui un rischio ripreso molto bene in questa rotazione senza l'aiuto delle mani.